Adesso torniamo a parlarvi della morte di Viviana e delle ricerche del piccolo Joelle. C'è adesso una nuova ipotesi, cioè che lei e il bambino potrebbero essere stati aggrediti da due cani di grossa taglia. Gli inquirenti hanno sentito il proprietario di due Rottweiler. La donna inoltre aveva le scarpe pulite e dunque si pensa non abbia camminato a lungo nella boscaglia. Camminano di pari passo le ricerche del piccolo Joelle e le indagini sulla scomparsa e la morte della madre Viviana Parisi. Anche oggi nelle campagne di Caronia, 70 persone tra vigili del fuoco, protezione civile, forestali, polizia, finanza, carabinieri del reparto cacciatore di Sicilia. Con droni e cani molecolari stanno perlustrando le campagne e le zone limitrofe. La procura di patti e la squadra mobile di Messina intanto stanno vagliando diverse segnalazioni. Anche una dalla famiglia, cioè quella di una possibile aggressione a madre e figlio da parte di animali selvatici o cani feroci. Un'ipotesi che sarebbe avvalorata dalla presenza sulle gambe della donna di alcuni morsi. Ieri è stato interrogato dagli inquirenti il proprietario di due Rottweiler. Le scarpe di Viviana inoltre non sarebbero sporche di terra come se non avesse camminato a lungo e fosse stata aggredita improvvisamente da qualcuno. Secondo gli inquirenti tuttavia solo gli esami approfonditi dell'autopsia potranno chiarire se i morsi sul corpo della donna possono essere compatibili con un'aggressione da parte di animali selvatici o cani. L'ipotesi che il piccolo Gioele sia morto in seguito all'incidente avvenuto nella galleria dell'autostrada Messina Palermo invece non viene ritenuta credibile dalla famiglia della donna. Altri aspetti che la procura starebbe vagliando sono legati anche al perché la donna nell'immediatezza dell'incidente non ha chiesto aiuto alle auto che si sono fermate. E poi il tempo di percorrenza tra il casello di Sant'Agata Militello e il luogo dell'incidente 13 km in un quarto d'ora d'autostrada che sarebbe stata così percorsa ad una velocità media di poco più di 50 km.